Ciao a tutti amici e bentornati e buon sabato. Oggi siamo qui in salone, in istituto, a fare un trattamento extra se contorno occhi. Vogliamo appunto dare benessere al nostro occhio che è un pochino stanco. Questo trattamento ricordo che ci aiuta a fare una simulazione del fibroplasto. I fibroplasti sono tutti ciò che ci aiutano a fare la produzione di elastina, collagene, Q10, quindi a dare trattazione, luminosità e anche proprio un effetto di distensione della pelle. Come potete vedere la pelle tende un pochino ad arrossarsi, ma perché andiamo a ossigenare di nuovo con questo pizzicottino delle alette. Non so se l'ali riesce a prendere il movimento preciso delle alette, che io nel frattempo ho cambiato modalità di applicazione, perché andiamo adesso a trattare le zampe di gallina. Questo pizzicore appunto ci dà la possibilità di andare a riossigenare l'estato epidermico e quindi riattivare un pochino il frutto. La memoria della nostra pelle poi in realtà, perché come tutti sapete la pelle ha una memoria che naturalmente la memoria a 20 anni ha una sua buona riuscita, la memoria a 40, a Vieno Ilenia ce n'ha un'altra e così via dicendo. Quindi per tanti, non sai qualcosa? Ma no, no. No, facevo proprio complimenti a Ilenia che ha una bellissima pelle, nonostante che fosse una birichina e non sto a dire altro. Comunque si può fare una popola. Vero io? Faccio male? No. Ok. Questa è la cosa principale ragazzi, è un frattamento che non fa male, assolutamente. ok allora noi vi salutiamo io e lei e tutta la FB un bacio a presto un bacione grazie mille di tutto ciao ragazzi